buongiorno a tutti anche stamattina siamo in collegamento con mosè e vediamo se ci presenta un nuovo ospite mosè mi senti eccomi qua a una mitica canon a molla super 8 8 mm 8 mm perfetto 8 mm senti mosè ma vedi c'è una ragione d'essere te l'ho preparato perché l'ospite che presentiamo oggi inizia i suoi studi nell'ambito dell'immagine con il cinema lui voleva fare cinema poi passerà per fortuna anche alla fotografia è un fotografo di mariano comense spero di averlo detto bene lavora in tre ambiti distinti che sono il mobile l'abbigliamento e il ritratto per me è un grande di violenza una volta mi si è fatto regalare un suo ritratto che campeggia nella mia mansarma e lui tra l'altro una persona riconosciuta anche in francia ha vinto un festival in un paese che del quale non ricordo il nome lui si chiama davide cerati e sarebbe bello avere un applauso che non c'è in tre ma è un grande personaggio della fotografia eccolo quello lo chiamiamo vediamo se ci risponde ciao davide ma vedi che sembra steve jobs del terzo legno quindi questo è chiare beh ricordo a tutti che è già stato anche nostro ospite a treviglio ha fatto una bellissima serata con noi con un workshop molto interessante che ringraziamo ancora oggi perché è stata una bellissima serata e quindi cedo a te la parola per cominciare a fargli qualche domanda la domanda prima è scontata e l'abbiamo fatto un po' tutti è quella adesso siamo un po' relegati in casa c'è chi parla di arresti domiciliari c'è chi parla di quarantena e quant'altro se apro le se dovessero aprire le gabbie oggi si può uscire qual è la prima cosa che andresti a fotografare qual è la prima fotografia che farete ebba probabilmente la prima fotografia che qualche cliente mi commissiona c'è detto proprio molto sinceramente la prima cosa che spero di fare di tornare in bottega perché la situazione è complicata da tutti i punti di vista e mi manca soprattutto la bottega ecco io sai sono figlio di sono brianzolo figlio di brianzoli ho un po' questa roba nel sangue della bottega del laboratorio del posto dove andare a lavorare chi lo sa cosa fotograferò in questo momento la priorità è ricominciare a far andare la macchina no adesso mi rubo un po' di tempo no mi ricordo una volta ti vieni a trovare tu ancora non c'eri in studio cioè sei arrivato un 5 minuti dopo ti vieni trovare nel suo studio c'era un signore che mi chiese chi stessi cercando no poi dico guardi cerco da venire cerati lui disse senti che vanno oggi domenica vanno ancora le seghe no senti e dico sì sì senti da qui sono scappati anche i cinesi come è importante la bottega e il lavoro per le ma sei qui davvero adesso un po' meno ma insomma c'è negli ultimi anni un po' meno ma davvero la mia i miei ricordi di infanzia sono questi cioè la domenica tu sentivi le pialle le seghe nelle bottega in ogni cortile c'era un falegname ecco ti chiedo una cosa tu hai iniziato col cinema studiando cinema no quindi immagino le scienziature è la pre storia comunque il cinema poi quello l'immagine del movimento poi quella lì voglio dire le basi sono quelle no cosa cosa sei riuscito a trasferire dal cinema le tue fotografie ti è stato utile cosa c'è nelle tue fotografie che arrivi dal cinema sì è stato molto utile soprattutto è stato utile l'abitudine a a considerare l'immagine una forma di comunicazione cioè mentre per il cinema è abbastanza immediato pensare che si possa comunicare un contenuto perché c'è una storia perché c'è un tempo che passa un ritmo ma soprattutto il racconto della storia con la fotografia è meno immediato non ci viene meno immediato pensare che si possa raccontare qualche cosa siamo più abituati a pensare che la fotografia possa raccontare possa essere un mezzo di di comunicazione dell'estetica che è sicuramente vero ma in realtà dentro alla fotografia dentro a quel fotogramma lì dentro a quel piccolo rettangolo ci passano le storie che nel caso della fotografia sono molto più sintetiche molto più 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 raccolte in un'unica immagine ecco il cinema mi è servito molto a a vedere questo aspetto della fotografia c'è l'opportunità di comunicare e mi eri sicuramente io ce l'ho un po' dentro questo desiderio di faccio io volevo fare il cinema e poi una serie di di casi mi hanno portato alla fotografia sono molto contento di questo ma mi è rimasto dentro un po questo desiderio di cinema per cui ho sempre bisogno di considerare quel fotogramma quella fotografia il frame di un di una sequenza più grande no cioè come se fosse un unico frame isolato da un contesto più grande faccio una domanda adesso questo punto importante io quando si parla con i miei colleghi amatori perché poi tu sai sono un amatore io dico sempre quando dovete fare delle fotografie avete identificato il soggetto no la storia scrivetevela scrivetevi non so io scendo a new york e scrivetevi ho visto un taxi giallo ho visto un tombino che fu fuma c'è una persona di colore che suona lungo le strade cioè scrivete le vostre sensazioni e suggestioni tu pensi che anche il video possa essere quello cioè tu pensi che il video fatto prima di un progetto possa rappresentare un aiuto per poi trovare gli scatti singoli ma sai questi sono esercizi no cioè voglio dire nessuno per tutti è importante costruirsi dei meccanismi cioè anche per me come per qualsiasi altra persona come per qualsiasi altro anche i foto amatori è stato difficile riuscire a capire cosa era necessario e utile fermare sul fotogramma quelli che tu suggerisci sono degli esercizi no scrivere chiaro poi dopo trent'anni di lavoro magari non scrive neanche no cioè perché innesca dei meccanismi degli automatismi sicuramente non rendono più necessario quel processo di per una persona invece che inizio che comunque sta imparando è sicuramente utile il video non lo so perché il video è un linguaggio molto un pochino differente cioè secondo me è ancora più difficile andare dentro in un video e selezionare scrivere sicuramente sì scrivere sicuramente sì un'altra cosa allora io nella presentazione dicevo che tu operi in tutta la fotografia questo è evidente però però hai fatto un lavoro importante che una un genere importante per me che è il food ah è vero l'ho saltato l'ho saltato quindi diciamo quindi ai food mobili abbigliamento e ritratto come riesci a travasare tu fotografi l'altro ambito con facilità perché mi sembra che tu facci tutto con l'estrema con estrema semplicità come fai a farlo allora la facilità viene solo dall'esperienza e dagli anni di lavoro soltanto da quello in realtà il processo è che per tanti anni ho fotografato quasi soltanto mobili cioè io partivo la mattina andavo nelle aziende dei mobili che allora avevano delle grandi sale di posa dove ricostruivano ambienti e passavo la giornata lì a un certo punto mi sono trovato quasi mi sono scoperto quasi a parlare con le sedie con i tavoli e allora ho capito che bisognava che che andassi a cercare le persone quindi mi è venuto naturale il desiderio di cominciare a interagire anche con le persone e poi in una fase successiva ancora è venuto fuori il food insomma sono stati dei processi abbastanza casuali però sicuramente mossi da bisogni inferiori per cui poi dopo sulle questioni tecniche va sai dovrà fare un prosciutto un divano non è tanto diverso ma sono solo diverse le dimensioni sì ma un prosciutto una bella ragazza vestita sì c'è qualche differenza c'è ma sì certo ma la differenza vera non è nella forma o nell'estetica ma è nella interazione cioè mentre il prosciutto resta la fermo e tu ci dici l'intorno con una persona devi per forza di cosa interagire e questa cosa questo aspetto porta dentro un meccanismo importante in più che è quello del fatto che non sei più soltanto tu a fotografare ma è anche lei è anche lui ci vuole un ingaggio è necessario un ingaggio con questo soggetto dovete ingerciare qualcosa parare a provocare a più che suggerire a muovere delle meccanismi quindi a volte ti trovi davanti dei soggetti che hai bisogno di nei quali hai bisogno di provocare una relazione altri che sono così professionisti professionali che la generano da soli ecco ti chiedo una cosa e chiedo anche uno spazio a franco cesni io ti ho avuto ebbi un grande sogno quello di portare tanti fotografi nel paese di mio panna se ti ricordi tu sei venuto con estrema generosità e ti ringrazio anche per questo io ti affidai come incarico di fotografare il comune e tu entrasti in comune per fotografare la gente e abbassasti le tapparelle non mettesti al buio completamente al buio e andaste a fotografare i vari soggetti nella penombra no il risultato fu che mia moglie mi disse mi chiese ma dov'è sta bella gente in comune nel tuo paese cioè la zerata della luce per terra quindi la luce è un motivo per iniziare cioè si inizia da lì e si ricomincia da lì ma allora sì questa è un po la mia perversione quella di invece che far luce toglierla no no in realtà io credo che noi diciamo spesso con un po di retorica a disegnare con la luce facciamo questi questi discorsi qua e tono in realtà spesso è più interessante l'ombra e la penombra rispetto alla luce cioè a volte è quasi più interessante la mancanza di luce che non la luce stessa ma io credo che questo sia abbastanza naturale cioè se tu ci pensi ci sono mille situazioni nella nostra vita che ci emozionano proprio perché la luce è poca no proprio perché la luce è misurata cioè vuol dire due innamorati si si mettono al tavolo a lume di candela no oppure mille dei nostri ricordi del mare piuttosto che della campagna delle vacanze sono dentro dentro in una stanza con la poca luce che filtra dalle persiane insomma dentro e dentro nell'oscurità si muovono un sacco di di pensieri no e dentro nel buio se ti interrompo se ti interrompo ti dico una cosa c'è un cantante che dice di notte ci sono posti che di giorno non ci sono c'è voglio dire è vero no è vero ma oltretutto parlando di fotografia e di immagine di comunicazione io credo che nel buio nell'oscurità nella penombra c'è lo spazio vero dello spettatore no c'è quello che lo spazio dove la testa dello spettatore entra e va a cercare queste cose no è certo certo questa cosa è importantissima cioè quando tu in un'immagine riesci a con un'immagine riesci a muovere la testa dello spettatore riesci a fare entrare la testa del spettatore e a fargli portare dentro cose sue e in quel momento hai innescato un meccanismo di doppia comunicazione perché io ti dico delle cose e tu ci porti del tuo no scusa è solo una cosa per questa cosa che hai detto l'ottica che tu preferisci per la fotografia qual è beh ovviamente quella più luminosa possibile nel senso che al di là della focale se ci fossero delle ottiche diaframma zero sarebbe io faccio un mutuo per qualsiasi cifra sono disposto a spenderla nel senso lavorando spesso con poca luce ho bisogno di avere ottiche luminose dal punto di vista invece della lunghezza focale dipende non ho un'ottica preferita diciamo che dipende le situazioni ovviamente in genere con il con il ritratto tendo usare ottiche intorno ai 70 80 100 di il focale se fotografo il food uso ottiche macro e spesso mi piace usare ottiche macro ma corte in modo da potermi avvicinare al soggetto come se fosse un' architettura insomma sulla macchina con che molto concretamente sulla macchina ho il 90 per cento delle volte un 24 70 torno un attimo al discorso della luce del buio io per me fare spegnere tutto è anche un modo per iniziare lo consiglio anche spegnete casa vostra e cominciate a accendere le luci e poi si vede però mi piace anche il fatto che tu dica che sia un modo per vedere ma oltretutto è detto un modo per far sì che lo spettatore veda che si cerca il soggetto allora siccome tu sei uno da cine non mi viene in mente un film che è paradigmatico per questo che è effetto a notte di truffo no cioè che ci ha messo un fitto davanti quello penso che sia l'apoteosi del tuo concetto di comane sì sì sicuramente quello è un grande film giusto allora adesso io franco direi siccome siamo alla fine un po' di questo di questo tempo direi di chiedere insieme ci sono questi formatori sono chiusi in casa hanno una macchina fotografica alle volte non si sa cosa farà fare tu che consigli avresti loro di spegnere le luci d'appartamento di cercare qualcosa di luminoso cosa devono fare i nostri amici? allora nelle chiacchiere che abbiamo fatto prima di collegarci vi ho detto che io in realtà personalmente in questo momento ho poca voglia di fotografare perché perché fotografo tutti i giorni e questa occasione è un'occasione in cui mi viene da fare altre cose sto facendo l'orto sto facendo altri 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 per un fotomatore invece secondo me questa è una grandissima occasione perché a volte vedono i fotomatore la difficoltà di individuare il tema cosa fotografo ok qui porco cane se ce l'hai da fotografare c'è una storia incredibile da fotografare una cosa che non è mai successa nella storia dell'umanità perché tutto il mondo è fermo questa cosa è fatti allora io credo che la cosa più utile sia prima di fotografare scrivere cioè tu mettiti là pensa di raccontare questa cosa a tuo nipote che la leggerà tra vent'anni scrivi di cosa diavolo sta succedendo una volta scritta questa cosa qua ci ritorni sopra e la dentro vedi individui le cose che devi fotografare perché la dentro sicuramente saranno uscite dalla tua penna delle cose che mancano alla scrittura tra la fotografia e che la fotografia potrebbe potrebbe essere potrebbe Sì, vai! Sì, vai! È un modo per riscoprire la casa. In questi giorni io sto scrivendo molto, quando anche di notte mi sveglio scrivendo le cose. E tu sappi che questo era un evento epocale, no? Però io abitavo con mia mamma e i miei genitori vicino a Roma. Mia madre, quando voleva rimproverarmi, mi diceva, vieni in cucina! Voleva rimproverarmi anche in Tinello, cosa cambia? Però quello era il luogo del rimprovero. Diceva, non mi riproverai. Diceva, vieni in cucina. D'altra parte no. Il piccolo che sia, fotograficamente, è anche un modo per conoscere noi stessi. Non indagare un po' a chi siamo, cosa vogliamo. Perché usiamo un po' troppo la casa come un tunnel tra l'oggi e il domani. E tu hai riscoperto l'orto, meglio così, insomma, non ho certo senso. Franco, io sono a posto. Benissimo. Davide, ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato. Speriamo di averti, assolutamente. Noi speriamo di averti il nostro ospite, chiaramente Treviglio. Sicuramente i nostri amici dell'Accademia avranno tantissime domande da farti e quindi speriamo proprio di poterti incontrarti presto. Quindi grazie, a presto, alla prossima. Ciao Davide, Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao